Wow, Miss Delight, hai un aspetto favoloso! Ehi là! Wow, diamo inizio alla cerimonia! Siete pronti a diventare marito e moglie? Sì, lo voglio! Sì! Congratulazioni! Grazie, tesoro! Grazie mille, ora fai silenzio per un po'. Wow, quanti ospiti! È vero, sono felice! Stanno tutti ridendo! È ora di lanciare il bouquet! Aiutatemi! Abbiamo un problema! Ho capito, è ora di mettersi in viaggio, andiamo via! Aiutatemi! Tu salva quella ragazza, io mi occupo degli ospiti! Ok, d'accordo! Ehi là! Come va? Oh, è difficile! Ehi, ma che succede? Perché state gridando? Andiamocene da qui! Ehi, ma dove andate? Ok! Non funziona! Non posso lasciarti fare nulla! Non vedo l'ora di vedere la nostra casetta! Andiamo, eccola! La, 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 la! Casa dolce casa! Non è dolce? Quasi troppo dolce! Oh, quasi non la sopporto! Disgustoso! Chi è che ha decorato? Ci sono acquari ovunque! Quello cos'è? Potremmo mettere un po' d'ordine? Ottima idea! Diamoci da fare! Forza, prendi questo! Ecco a te! Prendi questo e questo! Ehi, Kiss! Ecco, ora va molto meglio! Alla fine c'è sfuggito qualcosa! Oh, tutte queste cose stoccinate! Sembra una principessa, ma perché mi hanno presa? Oh, accidenti! Wow! Fai attenzione! Sto cadendo! Presa! Grazie! Figurati! Dolcezza! Adorabile! E ora il tocco finale! Ehi, Creatures! Vi va di uscire un po'? Ho sempre sognato di farlo! Bene! Questo è il tuo posto, amico! È inquietante! Sembra un incubo! Lo adoro! Che è successo qui? Un attimo! Questi due mi hanno rapita! Orribile! Detective Dog Day, raccogli le prove! Eccole! Va bene! È stato Huggy? No, non è stato lui! Va bene! È stata lei? Fammi pensare! No! Ok! Allora, forse Poppy? Decisamente no! Ci sono! Aiuto! Salvatemi! Arrivo subito! Ok! Nel frattempo io disegnerò i cattivoni! Questa corda mi sta attaccando! Lascia che ti aiuti! Solo qualche piccolo ritocco! Ecco qua! Date un'occhiata! Non posso affidarmi di te! Avevano questo aspetto! Santo cielo! Avevano dei sorrisi inquietanti! È vero! Toglimi le zampe di dosso! Chiado rinforzi! Gente! Sapete chi sono? Se sì, scrivetelo nei commenti! Grazie! Oh, corri! Topolino scappa! Topolino ha paura dei topi! Sbarazzati di quel mostro! Per favore, subito! Ma dov'è? È scappato! Forse ha visto quanto sono forte! Beh, Topolino! Il tuo tempo è finito! Sparò che almeno lui si metta in salvo! Roditore sconfitto! Urrà! Sei il mio eroe! Ora hai un altro delitto all'attivo! Congratulazioni! Sono molto orgogliosa! Sì, anche io lo sono! Mister Delight è un po' indietro! Ma quando ci sei riuscita? Mentre dormivi! Non preoccuparti, recupererai! Hai qualcosa da sgranocchiare? Sgranocchiati quel topo! È ancora caldo! Stai scherzando! Mangiatelo tu! Ma che fai? Io ho fame! Ecco il tuo hamburger! Delizioso! Oh wow! Ne voglio di più! Hai ancora fame? Sì! Sto morendo di fame! Forse dovremmo fare un controllo! Tieni! Cosa? Aspetta qui! Torna subito! Chi avrebbe mai detto che avremmo avuto un bambino? Dobbiamo comprare una culla, un passeggino e un sacco di cose! Dai un'occhiata! Qual è il risultato? Due linee! Vuol dire che sono incinta! Urrà! Diventerò papà! E io sarò mamma! Yuhuu! Ti amo! I bambini crescono in pretta mentre dormono! È molto affilata! Bel trucchetto, no? Ora nessuno ti toccherà la pancia! Mettiamola alla prova! Funziona! Ora posso diventare il professionista del lancio ad anelli! Proviamo! Oh, c'entro! Bingo! Lo sapevi che... Un attimo! Che cos'è? Un trucchetto da Trum Trum! Non preoccuparti! Battene subito! Devo alzarmi! Non ce la faccio! Perché sorridi? Posso chiamare un carroattrezzi? Te la sei cercata! Prendi questo! Ops! Stavo solo scherzando! C'è mancato poco! Scusa! Oh, non fa niente! Guarda questa culla! D'accordo! Fammi vedere! Qui c'è scritto che deve essere alta per evitare che il bambino cada! Guarda! Puoi appendere il giocattolo in cima! Ci sono! Me ne occuperà subito! È pesante! Accidenti! Miss Delight, dà un'occhiata! Sì, è proprio quello che ci serve! Mi piace anche a lui! Oh, che carino! Che cosa strana! Dovrebbero esserci dei giocattoli lì! Ho un'idea! Ehi, creatures! È il vostro momento! Sembra molto cattivo! Sei così premuroso! Farei di tutto per il bambino! Oh, credo di essere in travaglio! Oh, che male! Bisogna andare subito in ospedale! Respira profondamente! Ispira, espira! Oh, sta spingendo! Dottore, faccia qualcosa! Prima, l'ecografia! Si sbrighi! Oh, si è calmato! Che succede? Ce lo fa vedere? Che orrore! Forse è malato! Oh, è così adorabile! Dite davvero? Sì, perché non è così! Ci risiamo! Andrà tutto bene! Papà, è il tuo momento di andare! Tieni duro, tesoro! Ok, rimarrò calmo! Non mi faccio prendere dal panico! Sembra che vivano qui! No, è vuoto! Posto accogliente, ma ha uno strano odore! Wow, ci sono degli indizi! Fatemi controllare! Da dove cominciare? Qui non c'è niente di strano! Oh mio Dio, questi occhi! Sembra che mi fissino l'anima! Sì, sono decisamente loro! Assolutamente sì! Li ho riconosciuti! Anche io ho affidato qualcosa! Naso, non deludermi! Perché così tanta corda? C'è puzza di morte qui! Cerca ancora, cucciolino! Crediamo in te! Wow, vuoi giocare? Giochiamo! Stai calma, Catnap! Ma se fosse una trappola? La testa di Kissimissi! E questi cosa sono? Siamo noi! Perché ci mette così tanto? Entra! Sto arrivando! Abbiamo un maschietto! È così piccolo! Un bambino così carino! Ehi amico, guarda che ti ha portato papà! Ecco qua, la tua prima arma! È una cosa bellissima! Ai miei occhi! Credo che ora io me ne andrò! Ciao, ciao! È ora di tornare a casa! Sì, tesorino! Ti piacerà? Andiamo! Questi sono solo giocattoli! Non sono come noi, vero? Oh, ma a che serve questa corda? Mi somiglia in modo sospetto! Nascondiamoci! Arrivo! Non ci sono! Chi? Dove? Dove vado? Qui? Va tutto bene! Non c'è bisogno di piangere! Siamo a casa! Ora vivrei qui! Peccati ragazzi! Avete il diritto di rimanere in silenzio! Ben fatto, Dog Day! Ottimo lavoro! Ma che volete? Siete accusati di rapimento! Toglile! Ma dove hanno preso quel bambino? Non lo so! Ehi, ora basta! State spaventando quel bambino! Detective, lasciateli andare, vi prego! Siamo liberi? Ok, potete andare! Vai! Grazie! Ascoltate! Siete liberi di andare, ma solo a una condizione! Porterò con me quei giocattoli! Va bene! Dove posso mettervi? Explosione? Ma dov'è Catnap? Ops! Non gli è andata bene! Chiamiamo la polizia! È stato fantastico! Che succede? C'è stato un boom! Ops! Poverino! Ora basta con gli scherzi! Sei stata tu? Non sono stata io! Ah, avete sbagliato persona! La bambola ha ucciso Catnap! Sì, agente! Questa bambolina? Esatto! E l'ha ucciso? Sì! Impossibile! In fondo è solo un semplice giocattolo! Forse ha ragione! Forse ha fatto un passo falso! Non preoccupatevi! Il detective Magnum troverà subito il colpevole! Gli indizi portano qui! Pelo cangiante e odore di fritto! Ecco le prove! Un invito a una festa! Ne sapete qualcosa? Niente! Non ho molti indizi! Continuiamo! Sarà una festa fantastica! Il mucchio di rifiuti nasconde molti segreti! Guardate! Un'altra mina! Una matita! L'ho già vista da qualche parte! Lo sapevo perché mi fissi! Signora sospetta! Continuiamo! Perché l'hai fatto? Non sono stata io! Il criminale sta cercando di coprire le tracce! E' interessante! Che altro troverò? Un osso! E' umano! Un osso! Lancia l'osso! Vieni! Giochiamo! Ma quale giocare? Questo è un indizio importante! Sembra che il nostro cattivone avesse un complice peloso! La manderò ad analizzare! Me la sto facendo sotto! Ho raccolto tutte le prove! Miss Delight ho bisogno di parlarti un attimo! Perché proprio a me? Ok vengo! Va bene! Hai un alibi? Alibi? Quale alibi? Mi dispiace signorina! Non volevo offenderla! Che vuoi sapere? Voglio scoprire chi ha ucciso Catnap! La macchina della verità chiarirà molte cose! Io non ho niente da nascondere! Cominciamo! Oh! I miei capelli! Allora, dov'eri cinque minuti fa? Non stavo facendo niente di che! Controllavo i compiti! Ciao ragazzi! Vediamo se oggi avete fatto i compiti! Sono sicura che siete stati bravissimi! Kevin, tu sei un genio assoluto! Il tuo lavoro è fantastico! È andata così! Di la verità o ti porterò alla stazione di polizia! Ok, ok! Ti racconterò tutto! È andata così! Buona giornata, piccoli! Bella sedia si è rotta! Ah, ecco il motivo! Devo sostituire un piccolo bullone! Ti sistemerò in fretta! Forza, vieni qui! Ti stai nascondendo? Vieni fuori, non aver paura! Oh, presa! Resisti, sedia! Ti farò solo un po' male! E ora stai ferma! Ecco fatto! Ancora un po'! Diamo un'occhiata! Sono una donna a tutto fare! Passiamo ai compiti! Ottimo lavoro! Eccellente! Una catastrofe! Oh! No, di nuovo! Non preoccupatevi, sta bene! Ma la scrivania non ha un bel aspetto! E la sedia dei professori è di nuovo rotta! Che disastro! È stata colpa mia! Nessuno ha visto niente e arrivederci! Ammetto di essere colpevole! Ho rotto quella sedia! Ma non ho ucciso nessuno! Va bene, d'accordo! Sicura? Ci avremo bisogno di una pulizia! Siediti! Ehi là! La festa si avvicina! Possiamo accelerare un po'? Quale festa? Sei il nostro principale sospettato! Non puoi muoverti! No, sicuro! Questo non ti entrerà! Che posso fare? Oh, ci sono! Un gadget fantastico! Allora, che stavi facendo cinque minuti fa? Mi stavo precipitando in classe! Sono entrato nell'aula! È lì! C'è qualcuno qui? No, beh! Allora meglio! Sembra che qui sia passato un tornado! Forse è il caso di ripulire? Meglio fare qualche prova! Sembra che non ci sia nessuno! Ma non ridete! Oh, lo sguardo e il sorriso! Movimento fluido! Sì, sì! Davvero? Esilarante! Sì, lo pensiamo anche noi! Beh, il ballo è la mia vera passione! Confessa! Sei stato tu! Aspetta un attimo! Huggy, non mente! Ecco, dai un'occhiata! La 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 la! E che è successo dopo? Beh, dove eravamo rimasti? Oh, certo! Esercitiamoci con un paio di masse! In punta di piedi! Un po' più veloce! E ora una giravolta! Upsi! Grazie mille! Hai talento! Non è vero! Raccontami la verità! Ok, ok! Ma non essere così arrabbiato! Ti dirò tutto! Durante una delle rotazioni sono inciampato sulla mia stessa gamba! Oh, il mio bel viso! Aiuto! Quando ho ripreso i sensi, mi sono grattato un po' la testa! E ho deciso di lasciare la scena del crimine! Questo tizio è strano, ma non mente! Bene, sei a posto! Puoi tornare alla festa! E allora chi è l'assassino, Ruff? Posso andare ora? Basta con questa festa! Una videocamera! Perché non ci ho pensato prima? Dobbiamo prendere la chiavetta! Vediamo! Dovrebbe essere proprio qui da qualche parte! Certo, eccola! Cos'è? Non ho idea di cosa sia! Ora vediamo! Spostati! Amici, ci siete? Che casino che c'è qui! Dove posso appendere un poster? Il tavolo? L'armadio? Oh, ciao, Codina! Dove pensi di andare? Non scapperai! Mi sento bene, Wuhu! Ma che è stato? Sembra che si è esploso qualcosa! Ehi, stai bene! Svegliati! È morto! Povero gattino! Chi può aver fatto questo? Dorme come un giro! Il colpevole è da qualche parte nelle vicinanze! Lo sapevo! È stata quella bambola! Mai fidarsi di lei! Sei in arresto? Ve l'ho detto che sono innocente! Il caso è chiuso! Svegliati! Ah, che gratterebbe la mia pancia! Non c'è più bisogno di me! Addio! Andiamo! È ora di svegliare il gattino! Ora posso andare? Alzati! Svegliati! Ancora un minuto! Svegliati! Oh, la mia coda! Chi è stato? La mia povera coda! Ottimo lavoro! Hai davvero spaventato tutti quanti! Oh, va bene! Mi ero solo addormentato! In fondo sono un gatto! Dov'è, Poppy? Eccoci qui! Devo solo trovare il poster! Dammelo! Non esiste! È mio! Patetico ladruncolo! Ridammelo! Sta indietro! Oh, ragazzi, è ora di fare festa! Gli smiling creatures sono spaventosi! Sì, soprattutto catnap! Vi farò addormentare tutti per sempre! Dormite! Non voglio fare la spia! Oh, che spaventoso! Ehi, voi due, datemi quel tablet! Nel momento peggiore! Ehi, solo altri cinque minuti! È passata da un pezzo l'ora di andare a letto! Sì, dovreste dormire! E smettetela di mangiare la notte! Pulite la cella e andate a dormire! Sto andando a dormire! Mamma! È solo un sogno! Esatto! Dovete obbedire al capo! Obbedire pienamente! Ehm, dov'è andato catnap? Strano! Forse è un'anomalia! Devo riavviare? Salve, agente! Sta cercando me! Catnap! Sta sognando! Chi lo sa! Ora sono io, il capo, qui! Aiuto! Fatemi uscire! Vi prego, fatemi uscire! Chi c'è di ancora sveglio, eh? È ancora lì! Forse se n'è andato! Ha visto! No, no! Un pony, due pony! Ora è una colonia del sonno! Tu alza, ti guarda! Catnap è lì! Topi su cosi! Incredibile! È vero! Vorrei dormire per sempre! Ma il dovere mi chiama! I prigionieri sono svegli! E adesso che facciamo? È solo un gatto carino! Ciao, gattino, gattino! Gattino! Chi è un buon gattino? Chi hai chiamato, gattino? Le mie braccia! Volevo strapparti le braccia! Peggio! Le aggrappiate! Ora calmati! È venuto per me! Siamo pregati! State indietro! Voglio solo mostrarvi il nuovo programma della prigione! C'è un sacco di sonno! Sono io che prendo queste decisioni! Ci siamo appena alzati! Ok, farò un altro pisolino! Taylor, sei sveglio? Sì, che c'è? Non lo so! Hai visto? Sono le 11! È ora di fare colazione! Allora, dov'è il cibo? Questa è la roba migliore di Trum State! Buon appetito! Non ho mai mangiato il cibo per gatti prima d'ora! Oh, ha un cattivo odore! Il sapore è anche peggiore! Beh, non possiamo però morire di fame, vero? Ma prima devo prepararmi! Le mani devono essere pulite! E ora il tovagliolo! Miam, miam! Ma il gusto di pollo! Sono pronto a mangiare tutto! Ehi! Gustoso! Scusa! Non vuoi condividere? È imbarazzante! Beh, sei proprio un ingordo! Miau! Shh! Miau! Ma che cosa? Datemi altro cibo per gatti! Ehi, ma che sta succedendo? Non potrai scappare da miau! Corri, topolino, corri! Tanto io ti prenderò! Tipico comportamento da gatto! Oh, accidenti, Aristotele! La caccia al topo è fuori controllo! Oh, i miei manubri! Questo è un bel casino! Oh, l'agente Satton si arrabbierà molto! Ehi, hai dimenticato qualcosa? Dobbiamo fare le pulizie! Ma non abbiamo mai pulito una lettiera! Non so come si pulisce! Imparerete! Ecco i vostri spazzoloni, signori! Ma come si fa a pulire senza acqua? No, non è un mio problema! Possiamo evitare di farlo! Vorrebbe solo dormire per sempre! Non abbiamo scelta! Però ho un'idea brillante! Wow, ci sto! Bene, gattino, ti insegneremo a giocare! Donerò anche i lacci delle mie scarpe da ginnastica preferiti! Facciamo un inchino! L'esca è pronta! Ora il passo più importante! Perfetto, iniziamo! Uno, due, tre! Avanti, alzati, tesorino! Che carino! Lo vuoi? E allora prendilo! Sarà mio! A destra, a sinistra, faremo brillare questa stanza! È molto divertente! E ora salta! Attimo lavoro, amico! Capito, io adoro questi biocchetti! Ora basta! Ehi, voi! Oh! Non si cammina sul pavimento bagnato? Questa voce sembra familiare! Oh! Da questa parte! Ah! Ah! Sono un'escazione! Prendi questo, Miss Delight! Mangialo! Oh! Perché non funziona? Cosa? Oh! 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 Il gioco è finito! Sono stata risucchiata in questo mondo virtuale! Studiare? Non oggi! Devo battere questo livello! Come hai fatto ad uscire? Soltare la scuola è vietato! Ora vedrai il mondo per quello che è! Non farti illusioni! Come hai fatto? No! Andiamo! È così strano! Sto ancora giocando? O è la vita reale? Non riesco a capirlo! Un biglietto! Sono stata adottata o no? Non da questa pazza! Miss Delight! Ah! 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 Questo è un vero incubo! Oh! Piccola pianta grane! Hai deciso di giocare a nascondino con me? Bene! Giochiamo! Via libera! Possiamo fuggire da qui? Ridicolo! Shhh! All'uscita? Ok! Spero che sia lontana! C'è un cartello! Uscita! Sicuramente la porta è questa! Vieni! Non si apre! Aspetta! È una serratura a sfioramento! Devi mettere una mano e la porta si aprirà! Ma la mia mano non va bene! Devo pensare! Ci deve essere qualche indizio! Infatti! Accendiamolo! Certo! Se sai come... Intuitivamente ho avuto un'idea! Oh! Ecco, Huggy Wuggy! Stai indicando l'armadietto! È nell'armadietto! Ah! Ricordi? Sì! Ora dobbiamo solo trovare l'armadietto! Eccolo! Bingo! La nostra chiave di salvezza! Proprio quella di cui avevamo bisogno! Questo risolverà il nostro problema! Saltare le lezioni non va bene! Presto! Apri questa porta maledetta! Guardala! È proprio lì! Oh mio Dio! Anna, corriamo! Oh no! Oh, sei davvero forte! Ok, dobbiamo dare un'occhiata in giro! È la nostra occasione! C'è anche un videoregistratore e uno schermo! Huggy Wuggy di nuovo sul video! Quindi c'è uno scomparto! È chiaro! Ma che ci dobbiamo mettere lì? Questo sì che è un vero mistero! Un piccolo indizio! Facciamolo! Non andrete lontano, piccoli assenteisti! No! Non ci farai del male! Non resteremo in questa scuola spaventosa! Anna, trova la chiave! Sembra che l'abbia trovato! Un generatore! Si adatta perfettamente al nostro scomparto! Controlliamo! Oh, forza avanti! Ci va perfettamente! Papà, sbrigati! Ho aperto la porta! Sbrigati! Corri! Sei inutile! Ha ha ha! Beh, succede! Oh, signorina Delight! Stai disturbando il processo educativo di Anna! Non sei espulso! Non oggi, signorina gonna pua rossi! Tutto bene? Sì! Ah! Possiamo farcela! Dobbiamo rimuovere in qualche modo questa grata! Sbrigati! Sbrigati! Ho tanta paura di lei! Il grab pack non serve a niente! Me ne occuperò a mani nude! Oh, ecco fatto! Guarda! Che forza! Dove state andando? Aspettate! Wow! Hai centrato il bersaglio! Finisce sempre così! Quando pensi di essere scappata si scopre che sei solo all'inizio! Risparmia le tue energie, Anna! Non parlare! Sono stanca di scappare da lei! Oh! Guarda! Secondo questa mappa la nostra uscita è lì! Strisciamo! Fammi solo riprendere piatto! Non restare indietro! Sta facendo del mio meglio! L'energia sta finendo! Oh! Oh! Lasciami andare! Tornate in classe! Le lezioni non sono ancora iniziate! Oh! Sono riuscito a scappare! Sembra più lontano! Sì! Strappiamo la grata in fretta! Calma! Ti sono un esperto! Hai visto come l'ha fatto in fretta? Allora, un'altra classe! E altri problemi! No, no, no! Non toccarci! Sembra che si siano messi in guai seri! Ciao! Non aver paura! Va tutto bene! Siamo qui per aiutarvi! Aiuto? Beh, noi abbiamo bisogno di aiuto! Ciao! Cercate aiuto qui! Afferrate il pacco con la mano verde! E poi... Oh, peluche birichino! Ora dai suggerimenti! Aiuto! Nell'armadietto ecco la chiave di sicurezza! Hai visto il poster con il grab pack? Eccolo! È tutto come nel video! Ecco la mano verde! Indossiamola! Il verde ti dona! Ok, ora vado! Sì! Non vedo l'ora di uscire da qui! Avanti! Non funziona! Che sta succedendo? Non ci capisco niente! Ci manca qualcosa! Guarda! La luce verde! Probabilmente dobbiamo toccarla! Proviamo! Oh! Ora si sta caricando! Credo di aver capito! Sì! Attaccala! Forse funzionerà! Ok! Ora ci provo! Ops! Ho pallito di nuovo! Niente! Anna! Hai visto questa palla magica? Sono sicuro che la soluzione sia qui dentro! Proviamo! Sì! Credo di aver capito! Devi collegare questi tre punti! E la mano verde sarà il conduttore! Facciamolo! Anna è intelligente! Ben fatto! Sembra che non abbia saltato le lezioni di fisica! Deve solo fare più attenzione all'elettricità! Potrebbe prendere la scossa! Ora è tutto come dovrebbe essere! Siamo sulla strada giusta! Sei bravissima, Anna! Non ci avrai mai pensato! E tu? Hai sentito questi suoni? Vengono dal tubo! La chiave della porta! Eccola! Se fossi in voi non sprecherei le mie forze in vano! Papà, sbrigati! Ti sono mancata! Devo andare! Questa non è la porta giusta! Fermati l'unica via d'uscita è la ventilazione! Il nostro vecchio percorso! Andiamo avanti! O meglio, verso l'alto! Fermati! Vuoi lasciarmi tutta sola? Non ti lascerò, papà! Ma che posso fare? Grab bag! Esattamente! In fretta! Berra la mano! Oh! Spero che funzioni! Cosa? No! Non ho potuto salvarlo! Si è rotto! Ops! Una dieta non sarebbe una cattiva idea! Ciao! Forse diventeremo amici! Saremo amici e come? No! Ora sono rimasta sola! Non sarà per molto presto! Saremo insieme per sempre! Devo andarmene! Io voglio vivere! Un'altra classe dell'insegnante pazza! Scappa! Mamma, ho la pelle d'oca! Ecco l'armadietto giusto! Anna, aspetta! Oggi il gioco è più vivace! Dove stai andando? Aspettami! Ora è decisamente un addio! Pazza, signorina Delight! Oh! Pizzicatemi! Oh, fermi! Ma dove sono? Catnap è sulla copertina! C'è qualcuno qui? Oh! P-Picky Pig! Gli Smiley and Criders sono dappertutto! Sono finita a casa loro! Sono tutti adorabili, ovviamente! Ma il mio preferito assoluto è... Catnap! Voglio essere come te! Boo! Oh! Sei tu, Catnap! La creatura più bella della Terra! Che carina! Stavi guardando il mio poster? Io voglio essere come te! Non credo sia possibile! Proviamo questo! Dopotutto, ciò di cui abbiamo bisogno è un po' di magia pelina! Wow! Fatto! Ti piace? L'acconciatura è fantastica! Grazie, Catnap! La prossima volta saltiamo gli esperimenti con il pettine! Qui è dove teniamo i nostri costumi! Wow! Quanta roba! Una scatola da sogno! Un costume da coniglio? No! Piggy? Non lo voglio! Ci sono così tanti costumi e nessuno ha quello giusto! E adesso che facciamo? Immagino che dovremmo rinunciare all'idea! Oh, per favore! Non si tratta di quello che indossi, ma di quanto sei curata! Saggezza da gatto! Ecco a te! Questo sì che è un colpo di scena! Non ti annoierai mai con un gatto, vero? Ecco qua! Una pelliccia! E adesso che ci faccio? Cuciti un costume! È una macchina da cucire! Oh, un po' di fai da te! Miau! Bel gatto! Oh! Sembra che il mio ciondolo non si sia ancora sistemato! Trucco? Oh! È facile! È ora di darsi un po' al trucco! Sai qualcosa a proposito del make-up? In realtà no! Chiamerò una professionista! Sì, Cotton Up! Ho bisogno del suo aiuto! Nessun problema! Ci penso io! Tesoro, solo un momento! Mommy Long Lanks ha un magico kit di trucco con tutto il necessario per il make-up! Sei tu, Cotton Up? Stai invadendo il mio spazio personale! E che abbiamo sulla sedia oggi? Oh, iniziamo! Questo no! Pennello! Il tono della pelle deve essere uniforme! Ottimo lavoro! Che ne dici? Sei soddisfatta? Ora siamo in due! È bello avere qualcuno con cui giocare! Oh no, mia cara! Come farò senza questo gommitolo? Fai un sonnellino, non te la prendere! Il mio ciondolo! Fumo saporifero! Il nuovo compito! Interessante! Cosa? Forza! Prova un po' di lavanda! È deliziosa! Che schifo! Così! Mettila in bocca e masticala! Così! Non sembra commestibile! Che schifo, amici! Ricordate di non mangiare mai le piante crude! Non è vero! Allora, che ne dici del succo di lavanda? Bravalo! Succo? Già va meglio! Questo non lo rifiuto! Oh, appetitoso! Gustoso! Oh, che strane sensazioni! Ma che succede? Un segnale di fumo per i microbi? Aspetta, ho un'idea! Miglioriamo il succo con le bollicine della Coca-Cola! Uno strano espediente, ma... Oh, una studentessa molto capace! Svegliati! Forza, Catnap! Catnap! Catnap, che facciamo? Oh, ho un'idea! I gatti sono terrorizzati dall'acqua! Oh, mamma! Che cos'è? Quest'acqua terribile! Sei una ragazzina ingrata! Scusa, volevo solo svegliarti! Beh, ha funzionato! Oh, ok! Cosa? Un altro compito? Ciondolo! È ora di fare l'impossibile! Rubiamo la luna! Per questo avremo bisogno di una scala! Oh! Ti aiuto! Ok, prendila da dietro! Fermati! Punto perfetto! E ora aiutami! Così! Questo sarà il più grande furto di... Ops! Di un corpo celeste! Il Capitano Catnap è in missione! Capitano, la sosterrà da qui! Che avventura interessante! E quante piccole stelle! E ecco il nostro obiettivo principale! Quanto è bella! Anna! Prendila! La luna è mia! Che bella! Ops! Come ho fatto a dimenticarmene? Sono un gatto! E ho paura delle altezze! Che paura! Oh no! Catnap! Gattina, vieni da me avanti! Ti aiuto! Qualcuno ci aiuti! Aiutate il gatto a scendere da lì! Sono arrivati i soccorsi! Mi ha spaventato! Presto faccia scendere il gatto! La prego! Ce ne occuperemo in un attimo! È proprio spaventoso! Gattino, ti salverò! Vieni tra le braccia dello zio! Bene! Un altro gatto è stato salvato! Sei il nostro eroe! Grazie! Abbi cura di te! Abbiamo la luna! Esattamente! E ora dobbiamo solo rimpicciolirla! Fatto! Wow! Ci ha voluto poco! Indossalo! Ti sta bene! Uh-huh! Un altro messaggio! Non posso crederci! Ora sono una vera catnap! Grazie amico! Congratulazioni! Finalmente il mio sogno si è avverato! E sono diventata una di loro! Ehi! Smiley creatures! Catnap! Papà, un piccolo regalo per te! Davvero? Per me? E che c'è qui dentro? Sono così curiosa! I gatti amano molto le scatole! Ehm! Cosa? Un gomitolo? Ti piace? Un gomitolo viola è un sogno! Sapevo che ti avrebbe reso felice, amico gatto! Scatole e fili la nostra passione! Siamo gatti da guardia! Il ciondolo ha qualcosa che non va! Oh! Casa dolce casa! Oh! Mi mancherai! Anche tu! Ciao! Addio! Oh! È stato divertente stare insieme! Beh, almeno ho ancora il gomitolo! Vicky? Che bel gattino! Vicky sono io, Eilin! Sono stata trasformata in catnap! I gatti sono il meglio che la natura abbia creato! Mi aiuterai, vero? Oh! I miei vestiti! Mi dispiace! Non volevo! Stai indietro! Aiuto! C'è un mostro! Aiuto! Vicky, che succede? Catnap è un mostro! No! Non è così! Quella poteva essere la mia pelle! Ogni uomo non volevo! Mostro! Sei un mostro! Aiuto! Ecco come sono diventata catnap! Vorrei poter di nuovo essere Eilin! Povera creatura! Dobbiamo restituirti il tuo corpo! Evviva! Ho un'idea! Ma ci serve un piano! Quindi, per farmi tornare una persona, devo entrare nel laboratorio del cattivo! Neutralizzarlo e trovare l'elisi irreversibile! E non appena lo berrò, tornerò ad essere una ragazza! Gatto brutto e malandrato! Anche quel cane pulcioso la sta aiutando! Non riuscirai mai a farcela! Devo catturarli! Ma come? Ho un'idea! Fantastico! Salute, amico! Facciamolo! Oh, che profumino! Mi ha curato il naso che cola! Non invidio affatto, Huggy! Uh! Maestro! Huggy, devi occuparti di Kattonap e dei suoi complici! Ci penso io, padrone! Forza, squadra! Uh! Ma che succede, Rob? È un terremoto! Non lo so! È Huggy! Deve averlo mandato quello scienziato malvagio! Dite addio a questo mondo! Rilassatevi, ci penso io! Non potrai battermi, Kattonap! Sì! E tu che potrai fare, Dentone? Guarda cosa ho trovato! Una palla! Ti piace? Prendila! Oh, beh! Mia! La mia palla! Devo combattere contro Huggy da sola! Arrenditi, umana! No! Sei comunque morta! E adesso che faccio? Uh! Ho un'idea! Vogliamo giocare, Dentone? Ops! Oh! Oh, che male! Ora dovrebbe funzionare! Dormi! Sì, Huggy Wuggy è immobilizzato! Grande lavoro di squadra! Portiamolo via da qui! È pesante! Oh, tu! Huggy, sei un debole! Non sei riuscito ad affrontare quelle ragazze! Oh, esattamente! Come vuole capo! Avanti, mammi! Non deludermi! Farò del mio meglio! Ora nessuno ci fermerà! Presto, Catnap, riavrai il suo aspetto! Hop! Non mi piace che è stato! Oh, neanche a me! Oh! Aiutatemi! Non mi lascia andare, ragazzi! Aspetta, Meg! Show! Lasciami andare, brutto braccio! Oh! Mammi Longlangs! Catnap viene con me! Shmia! Oh no! Aiuto! Non lasciate che mi trascini via! Lasciami andare! Oh! Nasconditi! Uff! No, non farlo! Tanto non potrete scappare! Mammi! Inquietante! Oh, ragno bello! La canna da pesca! Fantastico! Meg ha un'idea! Le mie lunghe gambe mi porteranno ovunque! Uff! Uff! Alla mammi non piacerà! È su questo che conto! Oh! Che state facendo? Un regnetto lo prenderò è mio! Togli i tuoi artigli dai miei capelli! Lasciami! Oh no! Dobbiamo aiutare Catnap! Ecco, mi hai fatto arrabbiare! Scusa, Catnap! Come posso aiutarti? Pensa, Dog Day! Sbrigati! Può funzionare! Creeremo una piccola trappola! Ehi tu, spaghetti rosa! Ti sei dimenticata di me? Oh, tu! Sarai la mia prima vittima! Oh! Oh! Parla per te! Lasciatemi andare! Te ne pentirai! Dillo al tuo capo! Forza, ragazze! Stai fermo lì, cattivone! E ridai a Aileen il suo corpo! Ha firmato un contratto! Dammelo! Mai! Se non lo fai, ti costringerò a farlo! Bene, bene! Allora guardiamo! Dormi! Dormi! In realtà ero pronto a questo! Oh! Cosa? Troppo fumo! Voglio dormire! Oh, so! Io vorrei un pesciolino, ma dove siamo? Non ne ho idea! Aspetta! Ci hanno chiuso in gabbia! Oh no! Meg! Sono così cattivo! Presto ci sarà un altro mostro! Povera Meg! È nei guai per colpa nostra! Non so come aiutarla! Non possiamo perdere tempo! Ho capito! Ogni porta può essere aperta! I cattivi sottovalutano sempre il nostro potere! Boh! Tieni duro, Meg! Stiamo arrivando! Fermati! Lascia andare, Meg! Brutto secchione! Sono un genio! Non ho un secchione! Distrazione! Wow! Oh, questo non ci voleva! Bellissimo puntino! Pronto! Ti prendo! L'abbiamo persa! Combattiamo, Big Boss! Oh, niente asilo nido per cuccioli! Che cos'è? Ho un osso! È grande! È succoso! Dammelo! Tieni! Oh, dammelo avanti, Ruff! Su, girati! Dammelo, Ruff! Ma che succede? Dammi quell'osso, Ruff! Oh, vieni qui, puntino! Li ha resi schiavi! Devo agire da sola! Con molta attenzione! Per fortuna lo scienziato è occupato! Che tattica posso usare? Oh, questo è un bene! Il contratto è stato annullato! No! Cosa hai fatto? Ho portato a termine il tuo piano malvagio! Ora ti ucciderò! Rilassati, occhio rosso! Oh, stelle! Meg, ce l'hai fatta? No, siamo stati noi a farcela! Devo solo riprendermi il mio corpo! Oh, no! La fiaschetta con l'elisire è vuota! E adesso che faccio? Che sfortuna! Aspetta! Sono brava in chimica! Proverò a replicare l'elisire! Beh, auguratemi buona fortuna! Un po' di latte di unicorno! E sangue di pipistrello! Dovrebbe funzionare! O almeno lo spero! Beh, c'è del latte e un pipistrello! Quindi provo! Wow, Meg! Sei un genio! Grazie! Ora andiamocene! Tu vai! Io prendo lo zaino! Corri, Dog Day! Adoro gli atipini! Ruff! Vai da qualche parte? Non ha paura di te! Combattiamo! No, no, ho capito! Ho sbagliato! Perdonami! Non mi fido di te! D'accordo, hai ragione! Ma in segno di amicizia, ecco! Tieni questa! Adoro le calecca e i gnammi! Ma che mi hai fatto? Adoro le cavie ingenue come te! Goditi il viaggio, Pammi! Et voilà! Beh, chi potrà dire che non sono un genio? È venita! Silenzio! Dormite! Non vedete che ore sono? Oh, sì, sì! Andiamo subito a letto! Taylor, vai alla tua cucetta! Ora si spengono le luci! Ci vediamo! Beh, io non riesco a dormire! Non devo tremare! Non ci sono mostri! Siamo dietro le sbarre! Ingenue! Ciao, ragazzi! Mike! C'è un mostro! L'erba gatta non c'è al primo piano! Chiudete gli occhi! Potrei fare un pisolino veloce! Taylor, resta sveglio! Fumo rosso! Catnap sarà un incubo! Oh, che orrore! Niente più creepypasta prima di dormire! Ben svegliato! Che profumo scelgo? Sceglierò questo alla lavanda! Buonissimo! Beh, ma che gli succede? Che succede, fratello? Niente, niente! Ha solo avuto un incubo! Strano! Jacqueline non è ancora arrivata! Non arriva mai in ritardo! L'hai vista? Forse è malata! Spero di no! Chi ci porterà la colazione? Jacqueline! Jacqueline! Ehi, forse si è dimenticata di darci da mangiare! Vado a ricordarglielo! Se qualcuno te lo chiede, digli che torno presto, ok? Certo, fratello! Ok, vai, ti copro io! La telecamera ha registrato tutto quello che è successo! Quindi ci sarà una registrazione sul computer! Controlliamo! È strano! Non mi piace tutto questo! Forse è solo un'interferenza! Oppure qualcuno ha cancellato intenzionalmente tutti i video! Cos'è questo? Le chiavi della prigione! Beh, ci aiuteranno! Il tuo piatto? L'hai trovata? No, non è in cucina, ma questo c'era e... Un nuovo chef in prigione! Oh, non ho molta fame! Oh, che schifo! È disgustoso! Non c'era nient'altro! Io avevo voglia di uno spuntino! Oh, profuma di lavanda! Sì, sembra di sì! Mmm, delizioso! Avanti, provalo! Oppure dammi il tuo! Non esiste! Devo mangiare questa poltiglia! Ehi, non è fai così male! Meglio di pane e acqua, no, Taylor? Ma quale poltiglia è buonissima! I tuoi occhiali sono cambiati! Ti sei visto? Sei tutto viola! Credo sia il cibo! Il porridge è stato a mano messo e chi sta spegnendo le luci? Mike! Che c'è? Ket-nap! Corriamo! Ah, che gattini paurosi! Andate lontano! Non stiamo dormendo! Sembra di no! I miei topolini in gabbia! Non scapperete da me! È ora di andarsene! Abbiamo bisogno di un piano! Chiamiamolo Freedom One! Tu sarai il cervello! Avanti, pensa! Scaveremo un tunnel con dei cucchiai! Ci vorranno un paio d'anni, d'accordo? Sì! Poi faremo una corda con delle lenzuola e... Ci arrampicheremo sulla scogliera! Esattamente! Hai! Ma guarda dove vai! Topo? È enorme! Allontanalo da me! Cosa? Non ti farà del male! Guarda quei denti! Ho un'idea! Il nostro piano? Non è in parte, ne ho uno nuovo! Come stanno i miei prigionieri? Ah! Tormono così dolcemente! Ottimo lavoro! C'è odore di cibo! Un topolino! È arrivata la colazione! Ehi, non correre! Facciamo conoscenza! Ho del formaggio con me! Ha funzionato! Ehi! Taylor, alzati! Ce n'è andata! Sei un genio! Certo! L'intelligenza è il potere! Dammi cinque! Oh! La mia mano! No, amico! È la forza dei miei muscoli! Guarda qua! È forte! Ehi, arrenditi! Mike riderà di me! Che stai facendo? Continua ad allenarti? Mi arrendo! L'hai aperta! Vedi? Era semplice! Volete un topolino? No, grazie! Non abbiamo fame! Buon divertimento! Grazie! Sì, il nostro atleta ha paura dei topi! Perché il nerd non ha paura? Lo scopriremo subito! Darry! Un altro sogno spaventoso! Taylor, non crederai mai a quello che ho appena! Taylor, ma che stai facendo? Oh, non ce la faccio più! È così divertente! Fermati! Dove sei? Preso! Aiutami! Povero Taylor! Sembra esausto e sul punto di crollare! Devo distrarre il gatto, ma come? Fatemi pensare! Ho provato con i topi? Con i giocattoli? Ma certo! Ho bisogno di un profumo speciale! Il suo vestito è viola e... Il micio preferisce sicuramente questo colore! Ma certo! La lavanda! Andra! Troviamo! Oh, mi annoio più in fretta! Che profumino delizioso! Libertà! Era ora! Hai deciso di distrarmi dal mio divertimento! Era solo una pubblicità! Un profumo alla lavanda leggero e delicato ad un solo dollaro! Ah, mi è convinta! Mi è convinta! Ora sono allergico alla pesca! Ti è accaduta questa? Continuo! No, questo no! Risparmiami per favore! Il mio papillon è ricoperto di pelliccia! E ora senti la lavanda! Ridammela subito! Ti sei messa nei guai! Prendi questo! Mi dispiace, fratello! Non posso aiutarti! Cut nap! Ho dormito benissimo! Ma ora tocca a te! Jocelyn! Sono felice di vederti! Questa è la mia prigione! Quelli sono i miei prigionieri! Come osi presentarti qui? Dormi! Mi sono preparata per la battaglia finale! Dovrai avere paura! Solo un secondo! Non andrai da nessuna parte! Ora prendi questo! Intelligente! Non è giusto! Oh, mossa sbagliata! Sei il mio idolo! Aiutatemi a togliere questo! Bella pistola! È stata una tua idea? Ne voglio una anch'io! Posso premere il pulsante! Ops! Cosa? Taylor, perché hai... Ops! Sono stato io! Copriamola almeno con una coperta! Perché se avesse freddo... Bene! Con calma! Ora torniamo in cella! Terza fuga della settimana!